Il 27 marzo alle 18 sarà conferita dal sindaco la cittadinanza onoraria al cantante Deine Gramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha origini nissene da parte di padre. Infatti in città vivono alcuni suoi congiunti, le zie e le cugine e fino allo scorso anno anche la nonna paterna. La delibera con la quale la giunta prenderà ufficialmente la decisione sarà approvata domani in giunta. Ancora non è stata ufficializzata la notizia come d'accordi presi col cantante perché non è stata individuata la location tra le più papabili, il resto è il Teatro Rosso di San Secondo.